Il progetto come è noto è già stato interamente finanziato per il primo straccio, abbiamo approvato il progetto preliminare di demolizione due giorni fa e stiamo quindi, come si dice, facendo le carte per iniziare sulla locura est dopodiché partirà immediatamente il progetto per la realizzazione della nuova tribuna ma a quel che conta ci metteremo fuori dal lavoro per capire come dare seguito con la razionalità del caso ovviamente che raccomanda sempre il presidente Bellini per poter poi sognare insieme via presi. Nel frattempo, lo dico perché è storia di oggi, di ieri, di questi giorni abbiamo trovato anche un accordo per consentire l'utilizzo di porzioni di proprietà comunali nel quello che sarà il nuovo centro sportivo, nella zona dell'attuale area pro calcio e quindi insomma, pian pianino, cerchiamo di fare quello che è il nostro dovere. Noi ringraziamo profondamente tutti coloro che sono stati nel passato e in questo ultimo anno protagonisti di questa bella avventura incrociamo le dita senza dire nulla, attendendo quello che avrà martedì ma non posso che davvero ringraziare, a parte il mio amico fraterno sono Massimiliano Grugni, Marisa Bellini, Giuliano Tosti, non c'è, farà ottimo perché in vacanze le verità delle vacanze, da Gianluca Cincoiani, mister Lovato che è in arrivo soprattutto mister Pedrone che con Cetteo Dimascio guidano, come dire, il presente e il futuro delle schiere bianconere. Io mi taccio, vorrei proporre la visione di questo video che esattamente dà contezza di ciò che noi stiamo facendo, dopodiché passeremo alla seconda fase, quella della, come dire, splendido contributo che Marisa Bellini sta per dare a questo ulteriore pezzettino di storia dell'asco.